Perché il coordinamento a Bagheria? Perché sono convinta da bagherese, soprattutto dopo il risultato elettorale delle europee a Bagheria, in cui più Europa ha raggiunto il ben 7% delle preferenze, sono convinta che la città abbia bisogno anche di un respiro diverso, di parlare una politica più europeista, più liberale e più democratica. Ecco perché abbiamo accettato questa sfida e noi sfidiamo la corrente già dagli albori del nostro percorso. Abbiamo sfidato la corrente ancora una volta raccogliendo anche esperienze diverse di persone che provengono da esperienze politiche o civiche differenti per costituire appunto questo nuovo gruppo. Quindi ci sono le premesse per una crescita? Assolutamente sì, questo è quello che stiamo costruendo, non soltanto appunto con il gruppo di Bagheria ma all'interno di tutto il territorio siciliano. Lei è molto giovane e quindi si circonderà anche di persone altrettanto giovani, è anche un modo di parlare un linguaggio nuovo? Assolutamente sì, Più Europa è un partito giovane, è un partito che guarda e che parla ai giovani soprattutto. Io diciamo già mi ritengo meno giovane di tanti altri nostri iscritti che appunto si rivolgono a Più Europa proprio perché vedono questo nuovo partito come il partito che possa rispondere a tutte quelle esigenze europeiste, liberali e democratiche ma soprattutto che possa parlare un linguaggio anche ambientalista, un linguaggio molto più vicino appunto alle nuove generazioni. È un lavoro di costruzione sui territori giornaliero, quest'anno infatti si apre molto bene con la creazione di questo nuovo gruppo territoriale a Bagheria. Siamo presenti in tutta la Sicilia, ci stiamo strutturando, siamo già una decina i circoli territoriali presenti in tutta la Sicilia e con una prospettiva di crescita interessante. Una prospettiva di crescita interessante perché chiaramente Più Europa adesso anche con il trend delle elezioni dell'Emilia Romagna che aspettiamo a giorni ha deciso di candidarsi con le sue liste a sostegno del presidente che si sta candidando, il presidente uscente e quindi coraggiosamente sarà presente in questa competizione elettorale che avrà sicuramente un eco importante non soltanto nella regione Emilia Romagna. In Sicilia abbiamo appunto avviato già da tempo, da quest'anno, dall'anno scorso una strutturazione nei territori e appunto quest'anno si apre molto, molto positivamente infatti facciamo un grosso in bocca al lupo agli amici di Più Europa Bagheria.